Il fatto che in Ragnarok tutti gli amici di Thor che avevano i film precedenti muoiono in Ragnarok e Thor non se li caga minimamente Ma sai che non mi ricordo neanche io questa cosa però? Cioè chi è che muore in Thor Ragnarok? Muore il padre? Se non sbaglio? Comunque boh penso perché ha sofferto tanto perché comunque boh è un dio non lo so I motivi possono essere tanti Grazie